Benvenuti all'angolo del libro di Valsugana Web TV. Oggi vorrei presentarvi il libro di Dario Colombo, Bohemia, il popolo scomparso, edito da Minerva. L'autore, prendendo spunto da fatti realmente accaduti, costruisce una storia romanzata, soffermandosi soprattutto sulla vita di alcuni personaggi. È un libro molto particolare perché racconta l'esilio che sono stati costretti a subire i trentini all'inizio della Prima Guerra Mondiale e riguarda in parte anche molti Valsuganotti. Ve lo consiglio con tutto il cuore e se volete lo trovate presso la libreria Il Ponte di Borgo Valsugana.